E benvenuti a status speciale elezioni regionali Sicilia 2017. Il nostro appuntamento è con il candidato presidente onorevole Nello Musumeci, benvenuto. Il candidato onorevole Nello Musumeci nel 1994 è stato presidente della provincia di Catania ed è stato riconfermato nel 1998. Deputato del Parlamento europeo nel giugno del 1994 e nell'aprile del 2011 il Consiglio dei Ministri lo nomina sotto segretario di Stato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Nel 2012 arriva secondo dopo Rosario Crocetta alle regionali Sicilia 2012 e nel 2013 viene eletto all'unanimità presidente della commissione parlamentare antimafia a Lars. Nel 2014 Nello Musumeci è tra i fondatori del movimento siciliano diventerà bellissima. Dunque onorevole Musumeci il nostro format prevede 12 domande per i candidati presidente con due minuti e mezzo di risposta ciascuna. Iniziamo subito e iniziamo a parlare di piani di intervento per lo sviluppo turistico siciliano. Abbiamo, intanto mi consenta di salutare e ringraziare lei e gli amici che ci seguono da casa. Io credo che il turismo possa smettere di essere un tema da campagna elettorale per diventare invece la vera ragione per puntare su una rinascita della nostra economia. Qui non abbiamo nulla da inventare, il turismo culturale soprattutto, ma anche quello barneare, quello naturalistico, quello paesaggistico, il turismo della terza età va immaginato se destagionalizzato, se quindi spalmato nel corso di tutto l'anno. Io raccolgo in questa campagna elettorale il grido di protesta degli operatori turistici che mi dicono come negli alberghi si arrivi al tutto esaurito ma soltanto per tre mesi l'anno, il resto diventa davvero un calvario. Allora destagionalizzare l'offerta, portarla all'estero perché il turista va cercato a casa sua, non si può più aspettare che arrivi a casa nostra. Una seria politica dei servizi puntando sulla qualità, un marchio unico per promuovere gli itinerari, mettendo assieme tutti i soggetti per esempio proprietari di spazi culturali, regione, province, comuni, privati, la chiesa e vorrei poterlo anche dire la possibilità di accedere nella nostra isola a prezzi e a costi assolutamente vantaggiosi, siano credo i punti essenziali per inventare una nuova politica del turismo in Sicilia. Ci vorrà del tempo ma sono convinto che anche per la mia esperienza di Presidente dell'Azienda Provinciale per il Turismo di Catania per dieci anni, sono convinto che già nei primi mesi riusciremo in un rapporto sereno con gli operatori del settore ad avviare un nuovo modello che segnerà la discontinuità rispetto al passato. Politiche, queste per lo sviluppo turistico che ovviamente prevedono delle nuove azioni per la viabilità siciliana ma anche delle risorse da adottare per quanto riguarda la viabilità aerea. Sì, noi dicevo poco fa che uno dei presupposti per una moderna politica del turismo in Sicilia sia proprio quello della facile e comoda accessibilità alla Sicilia. Io non so se avete notato come la Ryanair per esempio stia mettendo in serio pericolo la stessa esistenza dell'aeroporto di Virgi. Sono stati dismessi tanti voli. Benissimo, noi abbiamo la necessità di poter con i vettori, di poter concordare un piano di interventi che possa consentire alla Sicilia, soprattutto nei mesi invernali, di poter ospitare il turismo sociale, il turismo della terza età in una regione dove la temperatura, grazie a Dio, si mantiene mite anche in quei mesi. Le infrastrutture sono assolutamente carenti, io ho fatto un giro per la Sicilia, ci sono province dell'entroterra dove mi vergogno davvero, provo vergogna a dirmi siciliano, penso alla provincia di Enna, alla provincia di Agrigento, alla provincia di Caltanissetta, strade impercorribili, anche strade statali, non soltanto provinciali. Se eletto Presidente della Regione vorrò un confronto con l'ANAS per capire che tipo di investimento ha previsto in Sicilia e poi mettere le province nelle condizioni di intervenire almeno per la manutenzione straordinaria lungo la rete di aria provinciale. Insomma abbiamo il dovere di adeguare le infrastrutture per accelerare la mobilità delle merci e delle persone in una regione dove il piano regionale dei trasporti ormai è vecchio, è superato e non viene aggiornato, il che riguarda anche il sistema aeroportuale, riguarda il sistema ferroviario che dovrebbe essere privilegiato rispetto al gommato almeno negli assi principali e poi la portualità che è diventato soltanto un tema di conflitto fra questo e quella città invece di pensare a fare della Sicilia un vero e proprio hub nel Mediterraneo perché lo dice la geografia prima ancora che la storia. Esattamente, ma la viabilità non è il solo problema che coinvolge il nostro patrimonio culturale perché l'emergenza rifiuti è sicuramente una delle emergenze da risolvere al più presto. Eppure sono anni che se ne parla, anzi decenni, abbiamo provato in tutti i modi, ho visto che Crocetta ha anche nominato un magistrato per affrontare e risolvere il problema dei rifiuti ma qui non c'è stato nulla da fare. Io credo che il difetto sia nel manico, cioè nella incapacità dei governi regionali di guardare in prospettiva e se necessario di guardare a positivi e virtuosi modelli in altre parti d'Italia o d'Europa. Io vi confesso che se eletto alla guida della regione vorrò verificare personalmente, magari con i tecnici in mia compagnia, come funziona il sistema dei rifiuti in alcune città del nord, come funziona a Berlino, come funziona a Londra, come funziona nelle realtà dove non soltanto il problema rifiuti non esiste, ma addirittura diventa una risorsa invece che un problema. In Sicilia noi continuiamo a far andare i camion del Catanese a scaricare nel Palermitano, i camion del Palermitano a scaricare nell'Agrigentino con costi davvero insostenibili tutti a carico del cittadino utente, spesso il servizio rimane scadente con l'attenzione che la mafia e le organizzazioni criminali continuano a puntare su questo settore. Quindi abbiamo il dovere di mettere mani subito e di cercare una soluzione emulando esempi positivi in altre parti d'Italia ed Europa perché finalmente in Sicilia il rifiuto non sia più la spazzatura, non sia più un problema, ma diventi un reddito, una risorsa. E il reddito potrebbe essere le fonti rinnovabili, ma fonti rinnovabili che poi vanno a coinvolgere la valorizzazione e la tutela dell'ambiente. Quali possono essere le misure da adottare? Intanto penso all'eolico, la prima cosa a cui penso dopo la sua domanda è l'eolico perché l'eolico, l'energia prodotta dalle eliche, le famose pale che girano è un valore senza dubbio ambientale e però per poter realizzare i parchi eolici noi abbiamo saccheggiato migliaia e migliaia di ettari di territorio con un profilo paesaggistico che invece, come dice la legge Bottai del 39, andava assolutamente tutelato. Io credo che noi dobbiamo in Sicilia dotarci di uno strumento di pianificazione per capire dove è la zona maggiormente esposta ai venti e quindi che meglio si può prestare a questo tipo di investimento, purché non sia suscettibile di tutela per il contesto ambientale. Noi dobbiamo sostenere l'energia alternativa, dobbiamo farla anche guardando con particolare attenzione alle imprese che in questo settore si vogliono scommettere in una cornice di assoluta trasparenza. Non possiamo ancora continuare a restare all'anno zero come purtroppo la Sicilia ancora oggi fa perché l'energia alternativa, l'energia pulita rimane soltanto un tema da convegno. Oltre ovviamente a quello che è il patrimonio culturale al settore turistico, sono tanti altri i problemi che dovrà affrontare. Parliamo di sanità siciliana e i provvedimenti da adottare per il sanamento del comparto gestionale delle risorse umane. Sì, se io penso ai problemi che dovrò affrontare dal Presidente della Regione non basterebbe un paio d'ore per poterli soltanto elencare. Certo che la sanità è un serio problema, il diritto alla salute è un diritto prima che costituzionale, fisiologico, naturale. Eppure in Sicilia si è perso del tempo prezioso per varare il piano della rete ospedaliera siciliana. Io credo che bisogna guardare essenzialmente a due obiettivi. Da una parte la rete ospedaliera e dall'altra parte la sanità del territorio. Dobbiamo evitare gli accessi impropri nei pronto soccorsi e questo lo si può fare soltanto se la medicina di base si sente motivata, si radicalizza e si spalma meglio sul territorio, magari con l'ausilio di appositi ambulatori pubblici, dobbiamo puntare ai poli di eccellenza ospedalieri, ma dobbiamo anche pensare che in basse aree dell'entroterra siciliana servono strutture per la pronta emergenza. Un infartuato, un paziente con lictus, un traumatizzato della strada, una ferita esposta, un parto con una emorragia importante non possono aspettare un'ora, due ore per poter arrivare al polo di eccellenza. Quindi serve sul territorio una rete di emergenza per stabilizzare intanto il paziente e poi possibilmente con l'elicottero trasferirlo nell'ospedale polo di eccellenza. Questo faremo con la sanità e i dirigenti non saranno cercati nel nord Italia come invece vogliono fare i grillini. Noi i dirigenti li cercheremo in Sicilia dove c'è tanto talento, tanta competenza, tanta esperienza. L'importante è non sceglierle in base alla fedeltà politica alla tessera del partito, ma sceglierle in funzione delle specifiche oggettive e riconosciute competenze. Nel passato governo il problema dei disabili è stato un grosso problema. Sostegno e inserimento lavorativo dei disabili. La ringrazio per questa domanda. Io credo che una società cresce non soltanto se le imprese producono e assumono, ma se si sta attenti a chi rimane dietro, a chi arranca, a chi non ce la fa, quindi agli ultimi, ai non garantiti, alla gente che vorrebbe gridare e non ha la voce per farlo. Lo scandalo dei disabili gravi è ancora sotto gli occhi di tutti. Assurdo che la regione non abbia contezza di quante famiglie in Sicilia vivano con un disabile grave a casa. Quindi serve una ricognizione, serve un piano regionale peraltro previsto da una normativa ormai vecchia di qualche anno e soprattutto dobbiamo capire come stare accanto a questa gente, mettendo le famiglie al centro di ogni attivismo e di ogni protagonismo. Io credo che assieme ai disabili gravi ci sia necessità di guardare agli anziani e ai vecchi, la Sicilia nei prossimi dieci anni sarà la regione d'Italia col maggior numero di anziani oltre i 60 anni e guardare e chiedersi perché le culle sono sempre meno piene, sono sempre più vuote. Quindi una politica per la famiglia che possa incoraggiare le coppie a sposarsi, sposarsi e fare figli e guardare al futuro con un minimo di prospettiva. Oggi la Sicilia è fra le regioni italiane e concludo quella che ha meno speso nel welfare, nelle politiche sociali e i risultati del resto sono sotto gli occhi di tutti. E adesso parliamo di ammortizzatori sociali e ancora di quali iniziative da adottare per potenziare i servizi per l'impiego. Sì, sono due i protagonisti del mondo del lavoro, da una parte chi vuole fare impresa e dall'altra parte chi nell'impresa ci vuole lavorare. Ecco, e allora chi vuole fare impresa deve essere incoraggiato dal farlo, non è possibile che il primo ostacolo debba essere la burocrazia, tutta la burocrazia, quella regionale, quella statale ma anche quella degli clienti locali. Il mio obiettivo è quello di snellire la burocrazia creando, d'accordo con le organizzazioni di categoria, uno sportello unico che possa in tempi ragionevolmente brevi, perché i tempi dell'imprenditore non sono gli stessi della burocrazia, poter concedere tutte le autorizzazioni e poi cercare di neutralizzare le tante diseconomie che accompagnano l'impresa. Penso all'accesso al credito, penso alle infrastrutture, ne abbiamo parlato, penso alla insicurezza diffusa in giro, l'imprenditore agricolo vive ogni giorno nell'incubo di essere preda di qualche bandito di turno. Ecco, io sono convinto e poi la ricerca del mercato, sono convinto che se noi da un lato sosteniamo l'impresa che è la vera ricchezza e dall'altra qualifichiamo i lavoratori che invece vogliono essere assunti dall'impresa, rivedendo il sistema formativo ed educativo, quindi a partire dalle scuole professionali, dalle scuole tecniche, perché un giovane possa arrivare pronto all'impatto col mercato del lavoro, noi eviteremo questa emorragia di ragazzi che se ne vanno ogni giorno verso il nord Italia o verso l'Europa e perché no potremmo fare della Sicilia un polo di attrazione degli investitori stranieri che nella nostra terra vogliono venire a investire perché vogliono venire a fare imprese, insomma serve una regione e un governo autorevole, bisogna creare un clima di ottimismo, non possiamo anche all'estero continuare ad essere la terra dei mafiosi, la terra della violenza, la terra dove tutto viene lasciato in un disarmante abbandono, questa terra assieme a tante negatività ha anche tante potenzialità, ma è il governo della regione che deve saperle esaltare e promuovere all'estero. Ma una delle negatività che viene contestata da tutto il territorio nazionale è sicuramente i costi della politica siciliana. Facciamo una breve differenza tra i costi della politica e i costi della democrazia, un rappresentante del popolo non è un costo della politica, è un costo della democrazia, certo la democrazia costa, ma il rimedio c'è, basta la dittatura e si risparmiano del 60 al 70% delle risorse, se invece vogliamo continuare a tenere la democrazia occorre soltanto evitare l'esagerazione, evitare l'esproporzione, un sindaco che amministra una grande città non può lavorare nella sua normale attività, ha bisogno di una indennità che gli consenta di fare il sindaco, così il Presidente di una provincia, così un deputato che lavora a tempo pieno. La verità è che in Sicilia spesso la classe politica ha pensato soltanto a consolidare i propri interessi personali, dimenticando che attorno a noi c'è tanta povertà. I costi della politica sono le auto blu, gli elefantieci consigli di amministrazione di enti inutili, gli autisti e le cene, le trasferte negli alberghi a 5 stelle, mentre invece si potrebbe fare come faccio io, andare in albergo a 3 stelle. Io da Presidente dell'antimafia ho rinunciato alla macchina blu e viaggiavo Palermo-Catania con il treno o con l'autobus, credo che questo lo possa fare chiunque, ma al di là di questo rimane un serio problema, la moralizzazione della vita pubblica. La politica deve tornare ad essere autorevole, la politica non deve delegare ad altri poteri, la politica deve essere testimonianza. Ecco perché io ho chiesto liste pulite agli alleati della mia coalizione, perché dobbiamo essere al di sopra di ogni sospetto. Cosa ne pensa della interferenza della politica sulla nomina dei dirigenti degli uffici periferici del Dipartimento Lavoro, nonostante la legge regionale 10-2000 abbia introdotto il principio della separazione del potere politico e gestionale? Penso tutto il male possibile, perché vero è che la competenza, la legge la distribuisce al potere politico per quanto riguarda la individuazione degli obiettivi, perché il programma è quello del Presidente o del Sindaco a seconda degli enti di cui si parla. Altra cosa è la responsabilità del dirigente che invece deve dimostrare di utilizzare tutti gli strumenti a sua disposizione per raggiungere gli obiettivi fissati dal Governo, fissati dal Presidente o dal Sindaco. Io credo che questo tentativo della politica di condizionare tutto e tutti debba finalmente cessare. vale per la sanità, vale per i teatri, sappiamo tutti che i teatri lirici o di prosa vivono in una condizione assolutamente disarmante, ecco io sono convinto che starebbe meglio se ci fosse meno politica al teatro e meno teatro nella politica, perché ne godrebbe chiunque. la politica deve soltanto fissare obiettivi e vigilare che gli obiettivi vengano raggiunti. Questa partitocrazia esasperata che vuole controllare tutto e tutti è una delle maggiori cause del disastro in cui si trova la Sicilia. Abbiamo assistito nel precedente Governo che si sta concludendo una politica di non valorizzazione anzi di globalizzazione che ha un po' investito i produttori agricoli e non valorizzando quindi le nostre risorse dai grani siciliani a tutto il resto. Ecco, quali attività possono essere introdotte per valorizzare invece i prodotti del nostro territorio e quindi la piccola e media impresa nell'agricoltura? Sì, certo. Applicare il principio del protezionismo in Sicilia sarebbe davvero antistorico, oltre che non consentito dalle norme comunitarie e dal buonsenso. Però io vorrei essere un Presidente della Regione predisposto maggiormente ad invitare la nostra gente a consumare siciliano. Ecco, il made in Sicily per me deve essere il primo passo che ogni consumatore deve tenere presente. Noi per le industrie del nord siamo diventati in Sicilia una sorta di mercato di largo consumo, siamo un tubo digerente, quando invece abbiamo innanzitutto il dovere di esaltare le nostre produzioni e di pretendere, ad esempio, che la grande distribuzione organizzata, che in Sicilia è particolarmente presente, forse troppo, possa essere in qualche modo utile ai nostri produttori agricoli per promuovere la nostra produzione, che è anche una produzione di eccellenza. molto spesso i nostri prodotti rimangono sulle piante, rimangono sui campi perché non c'è fetta di mercato, perché la concorrenza dei paesi africani è una concorrenza verso il basso. Noi compriamo un chilo di pane quasi 3 euro, ma a un produttore di frumento viene pagato un chilo di grano 25 centesimi, nella migliore delle ipotesi. Allora, puntare sull'agroalimentare, che non è soltanto uno strumento di crescita economica, ma è anche la nostra identità, la nostra cultura, vorrei anche dire una fonte di emozione per un Presidente della Regione, credo che sia il presupposto dal quale muovere se vogliamo aiutare le piccole e le medie imprese agricole. E questo vale per tutta la filiera. La responsabilità non deve essere soltanto del produttore, ma anche del commerciante, ma anche del dettagliante, ma anche di chi in questa filiera ci mette la faccia perché alla fine sulle mense possa arrivare un prodotto genuino e di qualità, facilmente tracciabile, del quale conosciamo la provenienza, evitando, come purtroppo accade, che in Sicilia debbano arrivare tonnellate di frumento dal Canada, trattato peraltro con un prodotto che l'Unione europea vieta, che lo scuse perché è ritenuto contaminante, mentre il nostro frumento, come l'ho appena detto, che è un frumento peraltro di qualità, lei ha fatto bene a ricordarlo, stiamo anche puntando a recuperare le varietà che un tempo erano assai diffuse nell'isola, evitare che il nostro frumento rimanga soltanto il bene, il reddito del povero. Una regione attenta, attenta a quello che avviene sul proprio territorio, ma ha anche protesa a promuovere all'estero il prodotto siciliano che trova uno spazio ovunque, guardi la Sicilia è nota all'estero per due cose, terra di mafia, impropriamente vorrei dire, perché non siamo solo quello, e per il buon cibo. Utilizziamo questa seconda buona reputazione e questo significa una bella spallata in positivo all'economia siciliana. E non possiamo non parlare, nonostante non sia un problema prettamente regionale, della questione dell'immigrazione che comunque investe la Sicilia notevolmente. Quali sono le posizioni che come Presidente, come futuro possibile Presidente della Regione, lei si propone? L'ho già detto nel mio programma elettorale e non ho difficoltà a ripeterlo qui. Se io venissi eletto il 6 di novembre Presidente della Regione, chiederei al Governo centrale di essere nominato commissario per l'emergenza in Sicilia. So che i poteri per questo tipo di fenomeno, un fenomeno epocale, non sono di competenza regionale, se non per approntare i centri di accoglienza, i minori non accompagnati e via di seguito. Però è assurdo che una regione frontiera, la regione sulla quale, sulle cui coste sbarca il 90% del flusso di immigrati debba apprendere dai giornali le decisioni che sono prese a Roma. Quindi un Presidente della Regione siciliana che possa condividere con le autorità comunitarie e nazionali al alcune scelte importanti. Troppo semplice che il Ministro dell'Interno scarichi sui prefetti la scelta di approntare strutture di accoglienza e a loro volta i prefetti scargono questa responsabilità sui sindaci, i quali sindaci cominciano a preoccuparsi e cominciano a protestare. È successo a Pozzallo, è successo sui Nebrodi perché è chiaro che poi si crea una tensione sociale che non serve né all'immigrato né al cittadino locale. Noi non possiamo continuare a sopportare questo incondizionato flusso di arrivi. La Sicilia è quasi al collasso, abbiamo il dovere anche di evitare fratture sociali perché il siciliano che vede che gli viene negato quello che invece viene dato all'immigrato si sente un'esolo in patria, protesta e si dissocia e questo noi dobbiamo necessariamente evitarlo. Quindi vogliamo essere chiamati a condividere le scelte che si fanno a Roma e a Bruxelles sul fenomeno dell'immigrazione perché noi siamo la porta d'Europa verso il bacino afro-asiatico e non possiamo essere trattati alla stessa stregua dell'Umbria, della Toscana o della Lombardia. Benissimo, noi siamo giunti quasi al termine del nostro incontro, noi vogliamo ringraziare i telespettatori per averci seguito e ricordiamo di seguirci sulla nostra pagina Facebook CTS Notizie, sulla app CTS Play e buon proseguimento con i nostri programmi. Grazie, grazie.